Inaugurato lo scorso 20 settembre, l'impianto di compostaggio di Salerno ha avviato i macchinari oggi con l'obiettivo, dopo due mesi di preesercizio, di trattare 30.000 tonnellate di rifiuti organici all'anno, da trasformare in compost fertilizzante da utilizzare in agricoltura, dotato di sistema di recupero energetico, sfruttando i biogas, produrre energia elettrica grazie anche ai pannelli fotovoltaici. Ad occuparsi della fase di avviamento e della gestione per due anni, la società che l'ha realizzato, la Daneko, che ha impiegato sinora 11 persone, di cui 7, altamente specializzate, su un totale di 15. Un'opera definita importante dal sindaco di Salerno De Luca, il primo impianto realizzato in Campania dopo la fase emergenziale. È un primato e un miracolo. È un miracolo perché abbiamo realizzato questo impianto in un anno. Un anno. 25 milioni di euro di fondi europei investiti, un gioiello di tecnologia e un primato perché noi completiamo con questo l'impiantistica legata al ciclo dei rifiuti alla capacità lavorativa di 30 mila tonnellate l'anno. Pensiamo di ampliarla a 40 mila tonnellate. Questo ci consentirà di risparmiare risorse importanti per alleggerire la bolletta della spazzatura dei nostri concittadini. Nonostante l'avvio dell'attività dell'impianto, i rifiuti restano terreno di scontro politico tra gli schieramenti in mezzo ai dipendenti dei consorsi. Questa mattina una delegazione di una decina di loro in rappresentanza della Will, Cube e Asso Trasporti ha atteso il sindaco per contestare le scelte che sarebbero state effettuate per la selezione del personale che, secondo i sindacati, avrebbe dovuto tenere conto prioritariamente delle esigenze dei lavoratori. Confondete un'opera storica con un comunicato stampa. Quindi io vi chiederei sinceramente di dare la proporzione giusta alle cose. C'erano sette persone mandate qui stamattina per fare un po' di ammuina, ma noi siete gente dell'informazione e sapete come funziona. Siccome è un'opera storica, è un miracolo che abbiamo fatto, si cerca in tutti i modi di ostacolare, di offuscare. Purtroppo i fatti sono più importanti delle chiacchiere elettorali. Quindi si conferma Salerno, un altro primato e un altro miracolo che abbiamo realizzato. Mentre la regione Campania continua a costruire disastri e mentre a Napoli abbiamo la guerriglia urbana per i rifiuti che sono per strada, per responsabilità di quelli che c'erano prima alla regione Campania e di quelli che ci sono oggi che sono peggio di quelli di prima.